In una fredda autostrada tedesca, tra il silenzio della notte, Filippo Turetta confessa il suo terribile segreto agli agenti della polizia. Uno sconcertante ammissione che cambierà il corso della sua vita. Mettete un like ed iscrivetevi al canale per seguire gli sviluppi. Davanti polizia tedesca, visibilmente provato, Filippo Turetta pronuncia quelle poche, ma devastanti parole. Ho ucciso la mia ragazza. Un'emozione cruda e inaspettata che segna la fine di una fuga disperata. Questa confessione, registrata ufficialmente, è il punto cruciale di un dramma che ha dell'incredibile. Ancora di più perché questa ammissione di colpevolezza non potrà essere usata in tribunale. Il giovane, dinanzi al giudice, ha solamente accettato senza opporsi la sua estradizione in Italia, un gesto che aggiunge un nuovo capitolo a questa storia intricata. La tempistica rimane incerta, ma la procura generale di Naumburg prevede che Turetta potrebbe essere consegnato nelle mani della giustizia italiana in alcuni giorni. Cosa pensate di fronte a una confessione così scioccante, ma soprattutto sul fatto che non possa essere utilizzata? Mentre gli accertamenti sulle prove hanno subito uno stop, si attende che in una seconda udienza Filippo confermi la volontà di essere estradato in Italia. In un momento così cruciale, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale per rimanere aggiornati su questa storia in continuo sviluppo. Lasciate un like se credete che il giornalismo accurato sia essenziale per comprendere fatti così complessi. In una cella del famigerato carcere di Halle, Filippo Turetta affronta il peso delle sue azioni. La storia si evolve e noi saremmo qui per raccontarvela. Grazie per averci seguito.